L'opera di Santa Maria del Fiore ha annunciato che la prima assoluta dello spettacolo teatrale con il cielo dentro, ideato in occasione delle celebrazioni dei 600 anni della cupola di Bruno Elleschi e che furono sospese a causa della pandemia, avrà luogo il prossimo 24 novembre nella cattedrale. La costruzione della cupola iniziò nel 1420, ora visibile nel luogo sacro un'inedita opera di poesia per drammaturgia di Davide Rondoni che il regista Giancarlo Cauteruccio mette in scena con musica di Roberto Fabriciani prodotta dall'opera con il teatro studio Cripton. Il regista torna così a lavorare nella cattedrale di Firenze insieme a un poeta dopo l'intensa collaborazione con Mario Luzzi con cui perseguì l'idea di un work in progress negli anni 2000-2002 per la creazione dell'opus Florentinum che il maestro dedicò a Santa Maria del Fiore. Cauteruccio ha scelto di portare direttamente in questo bellissimo scenario la sua voce insieme a due attori e una cantante lidica. La scena è nell'area della controfacciata della cattedrale, ci sono due grandi tavoli sui quali campeggiano libri e appunti, sistemi di misurazione e strumenti scientifici che rimandano alla scienza e alla ricerca incessante che ne è alla base.